Di corsa e con le valigie in mano, la vacanza in Messico dei Faintini Andrea Menichelli e della moglie Arianna è terminata così lo scorso 16 marzo, dopo che era iniziata 13 giorni prima. Il soggiorno all'estero non è stato intaccato dall'imminente pandemia di coronavirus che sarebbe esplosa nei giorni seguenti. Noi per quasi la totalità del viaggio non abbiamo notato nulla di particolare tranne gli ultimi 3-4 giorni a Merida dove stavano arrivando notizie dei primi casi a Città del Messico. Siamo sempre stati trattati bene ma davvero con nessun occhio magari attento o non abbiamo percepito paura. Più complicato si è rivelato il viaggio di rientro. Dopo la tratta prevista da Merida a Città del Messico a Monaco di Baviera, i romagnoli sono stati costretti ad imbarcarsi per Roma e poi arrivare a Bologna e via taxi ad Imola. Ora per i coniugi, al momento in salute, c'è l'obbligo di restare in isolamento per 14 giorni. La gente è tutta pigiata perché i voli sono strapieni, quindi possibilità di contrarre il virus elevata e quindi per questo siamo super d'accordo sul fatto dell'auto isolamento per 14 giorni. Quindi i miei suoceri, visto che vivono vicino a casa nostra, ci vanno a fare la spesa e gentilmente ce la lasciano sul pianerotto di casa. Grazie.